Allora, mi direte, ma allora che cosa serve l'esegesi, professor? Cioè, se noi non cerchiamo di capire l'intento dell'autore, ma seguiamo allora i significati che gli diamo noi, ma allora dov'è la verità? Dov'è, appunto, il senso vero di questo testo? La verità, cioè la realtà, è che, come sempre, dobbiamo trovare un equilibrio tra le due cose. Il metodo sincronico, cioè quello che legge e cerca di capire il significato del testo così come adesso, va bilanciato e ancorato, diciamo così, al metodo storico. Cioè, le due cose dovrebbero semplicemente stare insieme. Perché è vero che esiste un'infinità di approcci possibili a un testo, però questo dovrebbe avvenire entro certi limiti. Perché, altrimenti, le nostre interpretazioni possono diventare eccessivamente strampalate. Ci facciamo questa chiacchierata un po', se volete, leggendo anche insieme l'altro nostro libro di testo, che praticamente serve questo qua, come forse già sapete. La Bibbia come parola di Dio, Valerio Mannucci e Luca Mazzinghi. Oggi, in realtà, volevo leggervi quello che, secondo me, è un paragrafo molto importante. Qua, Umberto Eco. La semiotica e la teoria dei codici. Ma perché mi piace affrontare questo argomento che suona così complicato? In tutte le storie del mondo, da queste della Bibbia fino all'ultima pubblicità, all'ultimo film, Barbie Openheimer, che trovate al cinema in questi giorni, troverete degli elementi di questo tipo. Troveremo i personaggi che si muovono secondo delle regole. Cioè, ci sono delle strutture che si ripetono sempre. Non solo, ma ci sono anche dei temi legati a ciascuno di questi personaggi, no? Trovate, insomma, delle strutture linguistiche. Ma linguistiche, in questo caso, nel senso narrativo, che si ripeto. Allora, la semiotica non è che l'analisi dettagliata di queste strutture, che si trovano in tutti i racconti. E che sono state poi sviluppate in tante scuole, con tante terminologie diverse. E uno dei protagonisti in Italia di questi studi è il nostro Umberto Eco. Perché Umberto Eco si rende conto che molti di questi sistemi con cui noi attribuiamo un significato alle storie, ai discorsi, alle parole, alle narrazioni, in realtà possono essere interpretati non in un solo modo, ma in tanti modi diversi. Questo è il motivo per cui, quando il prof o chiunque altro, Sant'Agostino, o nel corso della storia della Chiesa, un'infinità di credenti, noi non siamo gli ultimi, ce ne saranno tanti altri dopo di noi, ma anche i non credenti, leggeranno questi testi, leggeranno la Bibbia, continueranno sempre a dare a questi testi nuove interpretazioni. Il motivo non è perché questi testi di per sé non abbiano un loro significato originario, ma perché siamo noi, in parte, leggendo i testi, a dare a questi testi un significato. Capito? Cioè il significato di un testo, diceva Umberto Eco, si produce nel momento stesso in cui noi lo leggiamo. Perché quando noi leggiamo un testo come, appunto, per esempio il capitolo che leggiamo un'altra volta, e lo leggiamo noi, nella nostra storia, in questo nostro momento, in questa nostra vita, e troviamo dei significati che l'uomo antico non poteva ritrovare, nonostante fossero destinati a lui. Perché è come se leggessimo queste storie sempre da prospettive nuove, e la prospettiva singolare, propria di ciascuno di noi, è sempre una prospettiva unica e originale. Questo è il motivo per cui la lettura di un testo, ma anche e soprattutto di un testo biblico, è una lettura che non esaurisce mai i suoi significati. Allora, mi direte, ma allora che cosa serve l'esegesi, professor? Cioè, se noi non cerchiamo di capire l'intento dell'autore, ma seguiamo allora i significati che gli diamo noi, ma allora dov'è la verità? Dov'è, appunto, il senso vero di questo testo? La verità, cioè la realtà, è che, come sempre, dobbiamo trovare un equilibrio tra le due cose. Il metodo sincronico, cioè quello che legge e cerca di capire il significato del testo così come adesso, va bilanciato e ancorato, diciamo così, al metodo storico. Cioè, le due cose dovrebbero semplicemente stare insieme. Perché è vero che esiste un'infinità di approcci possibili a un testo, però questo dovrebbe avvenire entro certi limiti. Perché altrimenti le nostre interpretazioni possono diventare eccessivamente strampalate. Allora, non c'è dubbio che io posso leggere la Bibbia e trovarci anche i missili e gli extraterrestri. Posso fare una possibile interpretazione di questo tipo? Di fatto succede. Di fatto succede. Però, se noi partiamo col piede giusto, cioè cerchiamo di bilanciare il nostro tentativo di vedere cose nella Bibbia che appartengono a noi, o al nostro modo di vedere le cose, con quello che era il senso originale inteso dall'autore, allora, in qualche modo, ci incontreremo a metà strada e troveremo, nel senso inteso dell'autore, infiniti modi di applicarlo a noi stessi, alle nostre vite. Capito? Cioè, in realtà, bilanciare il metodo storico-critico con tutti gli approcci strutturali, narrativi, semiotici, lo studio della metafora, degli archetipi, cioè la lettura qui e ora del testo, ci aiuta a trovare un equilibrio tra la verità originale del testo e l'interpretazione. L'interpretazione, però, sarà sempre inesauribile, perché l'interpretazione nasce nel momento in cui io faccio vivere il testo per me. Va bene? Perché sono sempre due movimenti. Il primo movimento è il cercare di entrare nel testo. Bene, questa si chiama esegesi. Quindi io cerco di estrarre il significato dal testo entrando nel testo, ma poi il testo deve entrare in me. Cioè, questo è il secondo passaggio. Cioè, non sono io al servizio del testo, ma il testo deve essere anche il mio servizio. Io sono al servizio del testo quando cerco di, appunto, comprendere l'origine del testo, ma da quell'origine non ci faccio nulla se poi non lo applico a me. Posso stare a disquisire un milione di anni su che cosa originariamente l'evangelista intendesse quando racconta la parabola del buon samaritano. Bene, posso fare uno studio esegetico sistematico di quella parabola. Ma poi interpretarla significa che io la assumo, la tiro fuori dalla carta, la interiorizzo e poi, soprattutto, la metto in pratica. E' quella, quello è l'esito definitivo dell'interpretazione. Quello è il momento in cui l'interpretazione diventa realtà. In questo discorso, se volete, è un po' confuso, però, insomma, spero che sia abbastanza legato all'essenziale. Ho cercato di spiegarvi due cose senza utilizzare i termini tecnici. Cioè, il concetto di opera aperta. Cioè, l'opera, qualunque opera, anche il testo biblico, diceva Umberto Eco, è qualcosa di aperto. Cioè, è un invito a creare dei significati, a creare dei riferimenti per noi. Quando l'Evangelista scriveva di Gesù, che aveva detto, lascia tutto e seguimi, l'Evangelista pensava alla sua comunità, che doveva accettare la sfida di Gesù di non contare più sulle cose materiali, ma di contare soprattutto nell'aiuto reciproco, nella solidarietà di questo gruppo. E l'Evangelista probabilmente non avrebbe mai immaginato Santo Antonio del Deserto o San Francesco, che davvero mollavano tutti i loro beni e interpretavano questa pagina del Vangelo in modo nuovo, unico e personale, fondando un nuovo movimento spirituale. Antonio il Monachesimo e Francesco i Frati Mendicanti. Non avrebbe mai immaginato l'Evangelista. Quindi noi non troviamo San Francesco nell'intenzione dell'autore, capite? Questo, lo studio storico-critico, può risultare arido, perché ci porta, appunto, indietro nel testo e mobilita una certa erudizione. Mentre invece l'interpretazione del testo è molto più pratica, perché esige qualcosa da noi, ci muove, e quindi siamo noi a dare al testo un significato nuovo. E fra dieci, centomille anni, ogni giorno ci sarà un credente, un cristiano, o anche un laico, che leggendo questa pagina dovrà decidere come interpretare, quindi come vivere, quella pagina del Vangelo. Allora, non so se vi sono spiegato. Allora, questa idea è quella della cosiddetta opera aperta. Quindi ogni testo vive anche del significato che noi diamo a questo testo, significato che diamo collettivamente o che diamo, appunto, individualmente e personalmente. E qui si capisce anche quale può essere il ruolo della tradizione della Chiesa, cioè, appunto, che la Chiesa come gruppo interpreta e tramanda questi testi insieme a una prassi di vita. Noi leggiamo i testi in un certo modo, perché ci sono consegnati insieme a un significato dalla tradizione della Chiesa, cioè dalla lettura che la Chiesa ha fatto nel corso del tempo. Cioè, un cristiano del XX secolo non potrà leggere mai la pagina, per capirci, di Gesù che dice vai, vendi, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi, senza pensare anche a Sant'Antonio, a Francesco, a Maria Teresa e al vicino di casa che si è appena convertito e che ha cominciato ad andare a servire la mezza caritas. Quindi questo, diciamo, che è il senso anche della tradizione nelle comunità cristiane. Insomma, ho messo troppe cose insieme. L'altra cosa è che i codici, questa è un'altra cosa importante per Umberto Eco, quando noi interpretiamo un testo, lo facciamo decodificando dei significati. Cioè, troviamo dei nessi, colleghiamo i punti in un certo modo, secondo certe regole. Ma queste regole potrebbero cambiare, potrebbero essere diverse. Quindi noi potremmo aggiungere dei significati possibili a questo testo, che non sono pensati all'origine da chi questo testo l'ha scritto. Per esempio, così funziona nella Bibbia, per fare un esempio, la profezia. Noi immaginiamo la profezia, per esempio, come una specie di preveggenza in cui c'è un visionario che vede il futuro e quindi sa tutto e ci dice questo tutto che ha saputo, queste cose che ha conosciuto in un certo linguaggio, spesso difficilmente comprensibile, fatto di immagini, un po' come a dire chi vuole intendere intenda. In realtà, la profezia viene spiegata molto bene nella Bibbia dal famoso discorso che Caifa fa nel Sinedrio quando decide di condannare a morte Gesù. La condanna è stata emessa molto prima, secondo il Vangelo di Giovanni, dell'effettivo cosiddetto processo, anche se poi è un processo farsa, di Gesù che viene presentato al Sinedrio la notte in cui viene tradito. E Caifa dice davanti a tutti voi non capite nulla davanti al Sinedrio che discute di Gesù. È necessario che un uomo solo muoia perché il popolo venga salvato. E Caifa intendeva una cosa molto semplice, intendeva questo era il codice con cui l'intenzione dell'autore che pronunciava quelle parole, il codice era si rivolgeva agli altri membri del Sinedrio dicendo guardate che se non facciamo fuori Gesù i romani opereranno una rivolta e noi saremo spazzati via il nostro popolo sarà spazzato via quindi è necessario che Gesù muoia per la salvezza di tutto il popolo morirà un ebreo solo ma almeno salviamo tutti gli altri. Quindi è un discorso un po' cinico ma anche un po' patriottico se volete e se volete anche ragionevole in una logica politica pragmatica ma l'Evangelista dice in quel momento Caifa profetizzò perché? perché l'Evangelista aggiunge una codifica diversa cioè collega i punti in modo diversi perché dice era necessario che Gesù morisse per la salvezza di tutto il popolo ma questo non è quello che intende Caifa non perché venga salvato dai romani ma perché la morte di Gesù chi offre se stesso salverà il mondo dal peccato e dalla morte perché quello è il disegno salvifico di Dio quello è l'annuncio del Vangelo quella è la carne che Gesù darà per la vita del mondo quindi Caifa fa una lettura pragmatica politica della realtà l'Evangelista in quelle stesse parole di Caifa vede una lettura profetica cioè una rivelazione dell'intento divino cioè Caifa ha un'intenzione Dio ha un'altra intenzione i punti sono collegati in modo diverso e che cosa cambia? cambia la finalità l'intento di quel messaggio quindi in questo senso cambia il contesto intenzionale cambia il valore di quelle parole perché sono viste in un disegno più grande questa Umberto Eco l'avrebbe chiamata un'extracodifica cioè una codifica ulteriore che viene aggiunta al testo e che ne cambia completamente il significato originario quando è leccita questa operazione dipende per i cristiani un'operazione lecita per gli ebrei no per esempio perché dicono voi avete travisato completamente l'antico testamento ma i cristiani leggono l'antico testamento alla luce della risurrezione di Gesù e del famoso episodio in cui Gesù spiega ai discepoli di Emmaus che tutte le scritture parlano di lui e allora vedete Gesù aggiunge un'extracodifica al testo suggerendo una regola diversa con cui interpretarlo e allora capite che noi possiamo come credenti cristiani per esempio leggere l'antico testamento a luce del nuovo in questa chiave ma questa non è più esegesi questa è teologia capite perché è interpretazione attualizzata del testo nel mio contesto di credente oggi è un'operazione lecita sì perché il linguaggio funziona così quando Pilato scrive per tornare a un altro esempio di profezia e di ironia se volete Giovanna Pilato scrive sul motivo della condanna questo è Gesù il re dei giudei gli altri dicono ma come non è possibile non è il re dei giudei lui diceva di essere il re dei giudei quello che ho scritto scritto quindi vedete c'è un'ironia perché Pilato vuole farsi gioco dei giudei mettendo è il re dei giudei mentre invece dal punto di vista dell'evangelista anche quella è una rivelazione persino Pilato ha profetizzato ha detto la verità su Gesù ha confessato se volete la fede in Gesù senza volerlo e questa appunto è una extra codifica per extra codifica va bene poi se voi andate a vedere il testo in realtà Umberto Eco si diverte un po' più del taglio parla a volte di ipercodifica di ipocodifica ma lasciamo perdere queste raffinatezze per riassumere brevemente la semiotica è il tentativo di collegare i discorsi le narrazioni le parole umane al significato però scoprendo il nesso che c'è tra le parole i discorsi e i significati si scopre che esiste un codice che collega i segni ai significati ma questi codici possono cambiare questi codici possono far leggere la realtà e i discorsi e i racconti ogni volta in chiave nuova e diversa perché ciascuno di noi quando legge aggiunge in parte un significato questo hanno fatto le prime comunità cristiane quando hanno letto l'antico testamento questo fa ciascuno di noi quando cerca di applicare alla propria vita un testo scritto duemila anni fa grazie a tutti grazie a tutti